La cosa più vera che hanno sono gli attacchini che pavono, almeno quelle gente che si sfama, quelle gente che sono l'unica cosa vera che vengono sono i loro attacchini. Purtroppo di vera c'è ancora la tanta gente che ai nostri quartieri popolari è costretta a chinare la testa e a dare un voto a chi ha dato il lavoro, l'elemosina, al figlio, al parente, all'ozio. Io ce n'è tanta gente che mi dice per Paolo, lo so chi sei, so cosa siete, so cosa avete fatto, ma non posso perdere il lavoro per il mio figlio. C'è anche qualcuno che dice, eh, dice io non è che mi posso fare vedere con i tuoi santini, ma forza cacchissimo non ha cana, appena si cala la dentina, piglio e scriviamo, segniamo sulla lista della sinistronista e magari scriviamo per Paolo Montato e soprattutto scriviamo Giovanna Marano, perché ci siamo riusciti a fare passare l'idea che anche attraverso